Giada Vindra Coburbun, Marajá di Pingalore, più conosciuto come Barba Brizzolata, era il monarca detestato e temuto di un immenso paese, sulla riba del mare di Oman. Le sue terre, circondate da montagne altissime, erano solcate da fiumi e cosparse di magnifiche floreste e laghi di un azzurro intenso. Il suo palazzo era tutto rosa e pieno di tesori. Un esercito di feroci soldati montava la guardia. Barba Brizzolata era molto vanitoso, i suoi vestiti in tessuti di filo d'oro erano tagliati e cuciti dal miglior sarto di Londra. Sul suo turbante splendeva il più grande topazzo del mondo e le sue babucce di pelle di gazzella ricamate di perle erano fatte a Firenze da un'intera famiglia di marocchinai che tutto l'anno lavorava solo per lui. La sua camera da letto in mezzo al palazzo tutto rosa era tappezzata con pelli delle tigri che Barba Brizzolata aveva cacciato nella giungle del suo regno. Gli elefanti bianchi nelle sue scuderie avevano tormaline, zaffiri e crisoberilli incastonati nell'avorio delle loro immense zanne e sulla sua tavola, imbandita ad oro, d'argento e di splendidi cristalli, c'erano tutti i frutti dell'India e tutti i vini della Francia. Barba Brizzolata sulle pelli di tigre e i tappeti di seta parlava di caccia e gioielli con altri principi suoi amici oppure spaparanzato sui cuscini nel suo treno dorato che scivolava su centinaia di chilometri di rotaie d'argento faceva il giro del suo immenso paese. I poverissimi contadini che facevano crescere i frutti e le verdure per la sua tavola estraevano le pietre preziose dalle sue montagne e coltivavano il tè, il pepe, lo zenzero, la seta, la gomma e il cotone che facevano la sua ricchezza lo guardavano passare intimoriti. Barba Brizzolata dopo un inverno durante il quale si era un po' annoiato pensò di sposarsi. Gli sembrava che fosse il momento giusto per farlo e chiese a suo padre, Chandula Cobourbun, più conosciuto come Panciaquadra, di trovargli una moglie. Panciaquadra riflette per qualche giorno e poi propose Lisa, la giovane figlia del Marajà di Maniben. E così Lisa, riccamente vestita e coperta di gioielli, uscì per la prima volta dal palazzo bianco di suo padre, per andare in groppa un elefante al palazzo rosa di Barba Brizzolata. Lisa non sapeva né leggere né scrivere, era dolce e sottomessa. Non aveva nessuna conversazione, diceva di sì a tutto. Barba Brizzolata tempestava, perché dici sempre di sì, eh? Non potresti dir di no ogni tanto? Sì, caro, rispondeva Lisa terrorizzata. Dopo due settimane Barba Brizzolata, spazzentito, decise di divorziare. Per non dispiacere al Marajà di Banimben, suo suocero, fece costruire un palazzo magnifico, tutto verde e smeraldo, a due giornate di elefante dal suo. Lo riempì di tappeti rari e di mobili ricchissime e vi installò Lisa, circondata da una legione di domestici. Lisa pianse per un po', poi sospirò, poi si mise ad allevare cani e gatti, a far crescere roseti e a cantare, con una bella voce cristallina, le canzoncine della sua infanzia. Barba Brizzolata tornò da suo padre, aveva deciso di tentare di nuovo il matrimonio. Adesso ho capito, disse Panciaquadra, quello che ci vuole per te, che sei un uomo di grande spirito, è Anna, la poetessa, la figlia del gran vizir di Bicanora, che fa le delizie di tutta la corte con i suoi poemi, che dice accompagnandosi col sitar. Anna è intelligente e spiritosa, le sue battute e le sue canzoni fanno ridere per mesi tutta la corte del Marajà di Bicanora. Barba Brizzolata era entusiasta, finalmente avrò una compagnia interessante, una conversazione brillante, pensava. E così anche Anna, ingroppa un elefante e con uno smeraldo grosso come una saponetta sul diadema, arrivò al Palazzo Rosa. Il giorno dopo Barba Brizzolata la fece chiamare per fare una passeggiata fra i roseti, ma Anna non poteva andare, stava componendo una canzone. Barba Brizzolata, furioso, fece una scena terribile, le proibì di comporre mai più una di quelle stupidissime canzoni e le confiscò il sitar. Quella sera, dopo cena, Anna senza sitar, ma battendo il ritmo con gli anelli sulle coppe di cristallo rimaste in tavola, raccontò in Alessandrini la sfuriata di Barba Brizzolata e lo imitò così bene che fece ridere da tenersi la pancia invitati cortigiani e servitori. Barba Brizzolata era verde di rabbia. La sera stessa Anna, il suo sitar e la macchina da scrivere di madre perla, partirono per il palazzo di Smeraldo. Lisa fu felicissima di vedere arrivare Anna. La sua vita solitaria era un po' triste, malgrado gatti, cani, rose e uccelli. Le imitazioni che Anna faceva di Barba Brizzolata la divertirono molto e nel palazzo verde la vita diventò piacevolissima fra risate e canzoni. Barba Brizzolata invece era tornato da pancia quadra. Sono molto sfortunato, gli disse. La mia prima moglie era dolce ma noiosa da morire. La seconda era intelligente ma crudele e sarcastica. Aiutami, voglio tentare di nuovo. Pancia quadra questa volta, a corto di idee, gli propose Zelda, la figlia del principe di Baroda, immensamente ricco. Il regno di suo padre, disse pancia quadra, è portentoso. I loro smeraldi e i loro diamanti sono ancora più numerosi dei nostri. Zelda, l'ereditiera di Baroda, arrivò al palazzo Rosa a bordo di un aeroplanino, seguita dalla sua segretaria canadese e dal suo parrucchiere parigino e dai suoi cani e dalle sue valigie innumerevoli. Nel palazzo quella sera ci fu una grande festa alla quale Zelda arrivò in jeans e con tre ore di ritardo. Barba Brizzolata, impressionato da tanta disinvoltura, si disse cappere. L'indomani, mentre beveva il primo tè della mattina nella camera da letto da pelli di tigre, Barba Brizzolata vide dalla finestra alzarsi nel cellulare operano. Sorpreso si informò e gli risposero che Zelda era partita per il festival di Salisburgo. La sua nuova moglie amava la musica. Un mese dopo Zelda tornò da Salisburgo, ma per ripartire per Parigi l'indomani. E quando 18 giorni dopo Zelda tornò da Parigi, Barba Brizzolata aveva preso la sua decisione. Divorzio anche da questa per Dinci. Zelda, prima di partire per Capri, fece un saldo col suo aeroplano al Palazzo Verde per conoscere Lisa e Anna. Anna e Lisa stavano cantando, Zelda si mise all'armonio e passarono un eccellente pomeriggio facendo musica, bevendo tè e chiacchierando. Zelda ripartì promettendo di tornare con strumenti e partiture, dischi e professori, libri e registratori e di fermarsi qualche tempo nel Palazzo Verde. Barba Brizzolata era sempre più depresso. Panciaquadra fu incaricato una volta di più di cercare una moglie a suo figlio. Tenta di fare meglio questa volta, incomincia ad essere stanco, disse Barba Brizzolata di malumore. Panciaquadra ci pensò per un po' e diede il suo parere. Quello che ci vuole per te, che sei un uomo di carattere forte e di grande personalità, è una ragazza semplice, modesta, che non abbia grilli per la testa. Una buona massaia dolce e discreta. Florinda, per esempio, la figlia del palafraniere. Che ne dici? Barba Brizzolato era sconcertato, ma consentì. Florinda arrivò anche lei, come Lisa e Anna, sulla groppa di un elefante al Palazzo Rosa. Ma questa volta non ci furono feste né celebrazioni. Tu sottosommato Florinda era la quarta moglie e poi la sua famiglia non aveva relazioni alto locate. Questa volta Barba Brizzolato era soddisfatto. Florinda era premurosa, faceva di tutto per piacergli. Dopo qualche mese una mattina gli disse. Caro, mi sembra che ignorante come sono, non son degna di essere la moglie di un uomo intelligente come te. Vorrei istruirmi per non farti sfigurare. Banitoso com'era, Barba Brizzolato consentì. Qualche settimana dopo arrivarono dai quattro angoli del mondo professori e libri, una spinetta veneziana, un armonio e un violoncello austriaco. Florinda diventò una studentezza insaziabile e superdotata. In poco tempo imparò il francese e l'inglese, le matematiche e la fisica, la storia e la geografia, e il violoncello da virtuosa. Passava le giornate chiusa a studiare o a praticare il violoncello. Barba Brizzolato la trovava cambiata. Quando tornava dalla caccia alla tigre non la trovava più ad aspettarlo, sorridente, con le babbucce fiorentine in mano e con un whisky seltz su un vassoio d'oro. Florinda era diventata distratta, non l'ascoltava e le succedeva persino di ribattere quando lui, vanitoso com'era, parlava di quello che non sapeva o di correggerlo quando piazzava la sua frasetta in francese scorretto. Barba Brizzolata, seccato di tanta scienza, umiliato dal non poter competere, geloso, decise di divorziare anche questa volta. E così Florinda, sprofondata nella lettura, partì una mattina per il Palazzo Verde Esmeraldo. E partirono anche i suoi libri e il suo violoncello. Lisa, Anna e Zelda, che di ritorno da Capri si era installata nel Palazzo Verde Esmeraldo, accolsero Florinda con curiosità e furono immediatamente rassicurate. Florinda era simpatica e affettuosa ed era una violoncellista di primo ordine. Barba Brizzolata annunciò che si era ammalato dal dispiacere. In realtà non aveva quasi niente, un forte raffreddore, e chiamò attorno a sei più grandi medici di tutta l'India. Uno fra gli altri, un vecchio pretenzioso ottuso che passava per essere il migliore di tutti, gli consigliò di sposarsi. Ma se sono anni che non faccio altro, gli rispose Barba Brizzolata amareggiato. Le ho già provate tutte, sempliciotte sofisticate, ricche e povere, niente da fare, sono tutti crudeli, egoiste, insopportabili. Provate, disse il gran dottore dall'alto della sua ignoranza, una ragazza giovanissima, tanto giovane che possiate educarla come volete. Sarete per lei come un padre e lei consolerà i vostri vecchi giorni. Proverò, borbottò Barba Brizzolata senza farsi troppe illusioni. E fu così che Liliana, una principessa diciottenne bellissima, arrivò al Palazzo Rosa. Liliana sapeva ballare, suonare l'oboe, cantare e recitare poesie. Dapprima fu abbastanza intimidita da Barba Brizzolata, così imponente col sottopazzo immenso, ma la mattina, dopo la grande festa del matrimonio, Liliana trovò Barba Brizzolata in pigiama, panciuto, pallido, con le borse giallastre sotto gli occhi, che si osservava la lingua in uno specchio con l'aria preoccupata. Liliana, fresca e rosa, lo guardò un momento incuriosita e poi si mise a ridere, e la sua bella risata cristallina, che sembrava quella di una bimba, si sentì in tutto il palazzo. Barba Brizzolata cacciò un urlo terribile. Portatela via, sta ridendo di me! Due giorni dopo, Liliana e il suo oboe entravano a far parte della piccola orchestra brillante e affiatata del Palazzo Verde Smeraldo. Quando arrivò la bella stagione, Anna propose di fare un giro del paese, presentando un piccolo spettacolo nelle piazze dei villaggi. Lo spettacolo era un'opera buffa in due atti, con arie, recitativi, balletti e assoli strumentali. Si chiamava Barba Fazzulla e le sue sette mogli, e raccontava in modo burlesco le avventure matrimoniali del marajà Jadavindra Coburbun di Bingalore, detto Barba Brizzolata. Anna, con una piccola pancia posticcia e una falsa barba blu, imitava il marajà in modo così spassoso che nelle piazze dei paesini i contadini e le contadine si tenevano le costole. L'opera ebbe un immenso successo. Per due anni la piccola compagnia girò per valli e colline in due roulotte Mercedes scelte a Stoccarda da Zelda, facendo ridere fino alle lacrime i contadini dei mille villaggi del regno di Barba Brizzolata. I sudditi di Barba Brizzolata, che fino a quel momento lo odiavano ma lo temevano e rispettavano, incominciarono a ridere in faccia ai suoi emissari quando passavano per esigere le pesanti tasse che da secoli aumentavano le ricchezze della sua famiglia. Barba Brizzolata, incredulo, partì sul suo treno dorato per rendersi conto personalmente della situazione e ristabilire l'ordine. Ma i contadini lo trovarono così buffo dopo l'imitazione che ne aveva fatto Anna, che ricordando qualche sketch particolarmente divertente dell'opera ridevano senza ritegno e non pagavano neanche una rupia. Barba Brizzolata era ormai rovinato. Venduti topazzi e ametiste, tappeti ed elefanti, palazzo rosa e palazzo verde smeraldo, fuggì in riviera e vive ora in una villetta di due piani, furioso e solitario. Lisa, Anna, Zelda, Florinda e Liliana dopo il giro dell'India si sono esibite nei più grandi teatri d'Oriente ed Occidente. Il loro repertorio è ora vastissimo, ma Barba Fazzullà e le sue sette mogli rimane uno dei pezzi preferiti dal pubblico.